Allora, come si era? Non uscire di casa, 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 non uscire di casa. La minestra, la minestra è salata, il bottone, manca il bottone, manca il bottone. Zittofi per non parlare Penso ma non parlo Leggo ma non parlo Scrivo ma non parlo Studio ma non parlo Cammino ma non parlo, rifletto ma non parlo, aspetto ma non parlo, lavoro ma non parlo, soffro ma non parlo, sogno ma non parlo, muoio ma non parlo. A che vale camminare quando i nostri passi non camminano e non lasciano segno? Perché ti chiami Tomaso? Il mio nome è un segno, il mio segno è un gesto, il mio gesto è un pensiero, il mio pensiero è un angolo, il mio angolo è la speranza. A che vale lasciare dei segni quando i nostri passi non camminano? Io non scrivo soltanto, penso. Io non penso soltanto, agisco. Io non agisco soltanto, modifico. Io non modifico soltanto, sovverto. Io non sovverto soltanto, riscaldo. Io non riscaldo soltanto, vivo. Io non vivo soltanto, esco dalla casa. Come porci con la storia, ria, ria? Come porci con la gloria, ria, ria? Come porci con la gloria, ria? Come porci o come sorgi, come sorgi, come sorgi, come sorgi. Come sorgi o come orchi, come orchi, come orchi, come orchi. Per guardare e riguardare, per sfruttare e risfruttare. Percepire, 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 per capire. E se dico capirei, vuole vedere che ho capito. Capi, rei. Capi, rei. Rei, 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 rei. Tutti i capi sono rei. Il mio capo è la mia testa. La mia testa è rea con essa. E se rea, e se rea è la testa dell'idea. Come un ecco in lontananza, si riode in l'istanza. Come porci con la storia, ria, ria? Come porci, come porci, come porci, come porci, come porci. Se facciamo solo gli orchi. Posso avere un po' di dare un appinto a questo, noi giovani. Voglio sperare che sia un appinto l'anti-concezionale. Senti tutto. Grazie. Il sesso è del flusso. Presenza, salienza, indice di gradienza. Focalizzo la percezione sul tema centrale e mi gioco subito l'ipotesi intrapersonale. Presenza, salienza, indice di gradienza. Creo così un legame, l'organo reale e l'oggetto simbolico, come vento multimediale. Presenza, salienza, indice di gradienza. Dai, con la voce. Presenza, salienza, indice di gradienza. Così io ti posso. Allora, stavamo così a questo ipotesi intrapersonale. Presenza, salienza, indice di gradienza. Presenza, salienza, indice di gradienza. Accetto la scommessa sulla tipologia della presenza e mi sincronizzo sulla massima frequenza. Presenza, salienza, indice di gradienza. La sostanza di questa intuizione consiste nello scollamento tra la struttura rilevata e il suo funzionamento. Presenza, salienza, indice di gradienza. Insufficiente è l'idea che un'alta frequenza sia accettata come principio di grandissima salienza. Presenza, salienza, indice di gradienza. Il produttore deve valutare l'informazione in entrata ai livelli più bassi con quella già incorpore schedata. Presenza, salienza, indice di gradienza. Si può ipotizzare che, per l'alto grado di semplicità, qualche alternativa favorisca gradienza e disponibilità. Presenza, salienza, indice di gradienza. A ciò che risulti chiaro, per meglio approfondire l'oscura dinamica interna, bisogna sempre e ognuno coprire. C'è una gara, una gara, una gara, c'è una gara su questa terra, c'è una gara che es gara, es gara. Si chiama guerra. C'è una gara, una gara, una gara, c'è una gara su questa terra. C'è una tara, una tara, una tara, c'è una tara su questa terra, c'è una tara che pesa e aggrava. Il suo nome è guerra. C'è una gara, c'è una gara, una gara, una gara, c'è una gara su questa terra, c'è una gara che canta e grida a basso la guerra. C'è una gara, c'è una gara. C'è una gara. C'è una gara. Mi piace singhiozzare, lacrimare, sudare. Mi piace urinare, defeccare, petteggiare. Mi piace sputare. E poi mi piace succhiare, leccare, masticare. Mi piace impugnare, russare, respirare. Mi piace ascoltare, guardare, odorare. Mi piace toccare. Mi piace tutto quello che nel corpo mio può entrare. E ancora più mi piace tutto quello che il mio corpo può cacciare. Mi piace quando dico voglio andare, voglio andare, voglio andare. E te lo dico spesso, ma non so più se è in capo al mondo oppure al cesso. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie a tutti durante lamattia. Tutti noi nella nostra vita abbiamo fatto una dieta. Dieta? Io ci ho messo 8 mesi per fare questa dieta. Mesi 8. Chilo grammi 68 Primo giorno 6, 8 Tongo 9 di biscotto 6, 8, 6, 8 6, 8, 6, 8 6, 8, 6, 8 6, 7, 6, 7 6, 7, 6, 7 Tongo il pane, quel lappetto 6, 7, 6, 7 6, 7, 6, 7 Tongo il pane, quel lappetto 6, 6, 6, 7 6, 6, 6, 6 6, 5 6, 5, 6, 5 6, 5, 6, 5 Ora, ora mi sento No, è perfetto Già, già, già mi sento Me lo fingo 6, 5, 6, 5 6, 5, 6, 5 6, 4, 6, 4 6, 4, 6, 4 Mi degusto solo un piatto 6, 4, 6, 4 6, 4, 6, 4 6, 4, 6, 4 6, 4, 6, 3 6, 3 6, 3, 6, 3 Mangio un piccolo bignè 6, 3 6, 3 6, 3 6, 3 6, 2 6, 2 6, 2 Mangerebbe fino a 2 6, 2 6, 2 6, 1 6, 1 6, 1 6, 1 6, 0 6, 0 6, 0 6, 0 Mi perdessere come ero 6, 0 7, 7 6, 5 6, 5 6, 5 6, 5 6, 5 6, 5 6, 5 6, 6, 9 6, 9 6, 9 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 6, 5, 8, 5, 7, 5, 6, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 1, 6, 1, 6, 2, 6, 3, maggiori corobini, 6, 2, 6, 4, 6, 4, 6, 4, ora mi rendo più il piatto, 6, 4, 6, 4, 6, 5, 6, 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 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, Vita, mesi 8, grammi, kilogrammi 68, kilogrammi 68, cento, cento. Grazie a tutti e grazie a Blanca, è stata fantastica.